Un focus a 360 gradi su tutta l'impiantistica sportiva della provincia di Foggia. È stato questo il filo conduttore della conferenza stampa organizzata dalla Fondazione La Capitanata per lo Sport. La riqualificazione di strutture sportive cittadine e provinciali rientra tra gli obiettivi prioritari della Fondazione Bellissario Masi. Foggia tutti sanno che Croci Nord verrà riqualificata, ma abbiamo ancora il campo degli ulivi, abbiamo ancora altre strutture. Non dobbiamo fermarci al calcio, ma abbiamo bisogno di guardare l'impiantistica anche per le altre discipline sportive, tenendo presente che Foggia, il territorio foggiano, presenta grandi campioni in varie discipline. E anche Dalconi chiedono più attenzione per l'impiantistica. Mimmo Di Molfetta. Abbiamo una necessità degli impianti enorme qui in Capitanata, non parlo solo di Foggia. Pensiamo che abbiamo soltanto un campo di atletica leggera su 7.000 km quadri, ci sono degli impianti che sicuramente hanno bisogno di essere rigenerati e dobbiamo pensare anche a una gestione degli impianti, questo sempre per l'aiuto dello sport foggiano. Ed è dallo sport che Foggia e la Capitanata sperano di rinascere. Lo sport è uno strumento per dare un contributo di benessere alle comunità e noi profonderemo ogni tipo di sforzo, di impegno perché anche la fondazione possa dare il suo contributo.